Oltre 10.000 colloqui one-to-one realizzati, 300 opportunità di stage e di lavoro lanciate, 2.000 laureandi e laureati coinvolti, più di 220 aziende e studi professionali presenti, con una partecipazione da parte degli employer più che raddoppiata in due anni. Sono i numeri della 27esima edizione del Lewis Career Day, la due giorni di fitti incontri tra domanda e offerta di lavoro organizzata dall'Ateneo intitolato a Guido Carli. Un'occasione unica per studenti e allunni dell'università di avvicinarsi alle principali multinazionali, aziende e professionisti che cercano giovani talenti. Sono qui al Career Day, non è la prima volta, sono venuto più di una volta, più di una volta ho trovato anche un impiego e credo fermamente in queste iniziative dell'università che ci mette a disposizione un'occasione di confronto continuo con gli employer, sia per trovare delle cose che rispettano le nostre aspettative, sia magari per uscire un po' dalla zona di comfort e trovare qualcosa di diverso di nuovo. Le aree professionali per le quali si registra un maggior numero di offerte, secondo il Career Service della Lewis, sono oggi legate ai settori dell'amministrazione, finanza e controllo, delle risorse umane, del data science e del marketing. Intercettare aspettative e aspirazioni dei giovani di oggi risulta inoltre strategico se si considera che gli appartenenti alla generazione Z entro il 2025 costituiranno il 27% della Forza Lavoro, un'opportunità anche per i laureandi. Sono qui oggi perché penso sia una grandissima opportunità per poter conoscere le aziende che ci sono, fare network comunque, conoscere le persone, farsi vedere, dimostrare interesse e anche conoscere le opportunità che ci sono sul mercato delle varie aziende anche per chi non è ancora laureato e quindi magari vorrebbe iniziare a fare un tirocinio e comunque come me approcciarsi al mondo del lavoro. Studentesse e studenti hanno potuto parlare direttamente con moltissimi interlocutori aziendali, fare networking e girare fisicamente tra i diversi spazi dedicati. Per noi è un evento molto importante, teniamo particolarmente a questo incontro con questa università proprio perché è l'opportunità per incontrare giovani talenti. talenti non solo per quanto riguarda i profili e curricula che stiamo incontrando grazie agli importanti percorsi di studi che stanno svolgendo ma ragazzi ricchi di curiosità, di proattività, di voglia di mettersi in gioco, di sapere, di conoscersi e anche di rimodularsi anche in base a quello che il mercato può offrire. Non è così scontato trovarlo nei ragazzi così giovani. Ma come descrivere concretamente il lato imprese, i laureati e laureandi LUIS presenti al Career Day? Sono tutti molto curiosi e abbiamo avuto la possibilità di raccontargli un po' il brand, le opportunità che ci sono da noi nelle aree di staff, dalla parte legal alla parte della direzione risk, ma senza trascurare anche tutta la parte del planning and control, il controllo di gestione. Quindi li aspettiamo poi in azienda per proseguire insieme il percorso.